...o fuori da questa tenda o in altra maniera hanno l'opportunità di ricevere questa buona notizia la notizia che tutti quanti noi vogliamo regalare al mondo ovvero sia dico sempre la mia testimonianza è la più bella di tutte perché la mia perché non ascolto qualcun altro perché lo sento l'ho vissuto perché l'ho provato e credo che ciascuno di noi debba considerare la propria testimonianza la più bella Rebecca e soprattutto Matteo mi sono in qualche maniera ritrovato nelle loro vite nella loro esperienza perché proprio quando avevo la loro età qualcosa è successo in me e quel qualcosa è stato rivoluzionario io ho sentito per le prime volte parlare di Gesù in questa forma di un Gesù vivente di un Gesù che è capace di farsi conoscere di manifestarsi nella vita delle persone quando ero adolescente mi ricordo che cercavo di informarmi cercavo di capire cercavo di pesare quello che veniva detto per capire se poteva esserci qualcosa di vero o se era solo un'esperienza emotiva solo un coinvolgimento superficiale man mano che queste cose le ascoltavo e che vedevo nella vita dei miei genitori un cambiamento e un rendersi sempre più partecipi e sempre più aperti alla presenza di Dio realizzavo che qualcosa doveva esserci che non era pura invenzione che qualcosa probabilmente esistiva ma avevo la tendenza a dire un domani forse anch'io me ne occuperò non è il momento devo fare tante cose prima sono giovane devo finire gli studi devo fare il militare devo trovarmi un lavoro devo sposarmi devo avere tante tante esperienze e poi un domani forse penserò anch'io a tutto questo a volte ci facciamo dei piani a volte pensiamo di avere possesso della nostra vita ma non ci rendiamo conto che la nostra vita nelle mani di Dio e Dio ha voluto per me un qualche cosa che è venuto molto presto quando era appunto giovane avevo appena terminato gli studi ho trovato subito un lavoro avevo una macchina avevo dei soldi avevo possibilità di fare qualunque cosa ma a un certo punto della mia vita ho appunto iniziato a sentire la mancanza di qualcosa che non riuscivo ad inquadrare e non riuscivo a capacitarmi di questo e dentro di me analizzavo questa situazione dicevo come è possibile che alla mia età non mi soddisfa nulla non c'è qualcosa che mi dà entusiasmo quando potrei avere a disposizione tutto quello che un ragazzo della mia età vuole e questo stato d'animo era talmente evidente che usciva fuori tant'è che chi mi conosce mi ha visto abbastanza presto e mi ha chiesto che cos'hai e un giorno ero proprio in macchina con mia mamma che mi ha chiesto che cos'hai è un po' che non ti vedo bene io ho cercato di minimizzare di dire non ti preoccupare non è niente ma lei ha visto chiaramente che c'era qualcosa al che ho detto non lo so che cos'ho che mi manca qualcosa ma non so che cos'è lei aveva già fatto un'esperienza col signore in quella circostanza mi ha detto forse il signore che ti sta chiamando mi sono messo a sorridere e le ho detto forse ma tu lo sai che il mio cuore non è pronto per il signore il mio cuore non è sufficientemente sensibile per il signore io avevo visto delle riunioni tipo quelle a cui state assistendo questa sera avevo frequentato tante riunioni e una delle cose che mi aveva colpito più di tutte è stata che ho visto delle persone piangere alla presenza di Dio per la gioia che Dio sa mettere nei cuori questa cosa mi aveva sconvolto tra virgolette scolvolto perché in me pensavo ci deve essere predisposizione di cuore per arrivare a tanto e io questa predisposizione non ce l'ho non fa per me bisogna avere delle caratteristiche particolari per arrivare fin qui e io non faccio parte di questa categoria io non potrò mai arrivare a questo e proprio in quella situazione ho detto a mia mamma tu mi conosci e da quando ho sei anni che io non verso una lacrima tu pensa se io posso arrivare a provare sensazioni come quelle che vedo che alcuni provano non fa per me e quella volta non ricordo ancora adesso sorrido mia mamma mi ha lanciato una sorta di sfida spirituale dicendomi tu vedrai che se Dio tocca la tua vita è capace anche di farti piangere ho detto va sarà ma ho i miei dubbi di lì a poco questo vuoto non veniva a mancare e un po' nel segreto un po' per vergogna un po' perché avevo bisogno di rimanere da solo ho iniziato a leggere in maniera più assidua la parola di Dio e a fare una semplice preghiera ho detto signore se sei tu che mi stai chiamando perché io credo fondamentalmente in te ma se sei tu veramente che mi stai chiamando in questa maniera fammelo capire io ho sempre avuto un ottimo rapporto con i miei genitori mi fidavo ciecamente di loro ma proprio in quella situazione ho detto non mi bastano le loro parole se sei tu signore ho bisogno di un segno tangibile da parte tua che mi faccia capire in maniera diretta che vuoi qualcosa da me sono andato avanti con questa semplice preghiera per un po' di tempo e un bel giorno era il 23 dicembre del 1991 sono passati tanti anni ero a casa mia e nel pieno della mia angoscia del mio dolore interiore facevo ancora questa semplice preghiera e in quella situazione non so come ma so chi l'ha fatto mi sono reso conto che mentre dicevo queste cose qualcosa nel cuore stava succedendo sentivo un calore che cresceva e questo calore era un calore che mi dava beneficio e io continuavo a dire signore se sei tu fammelo capire se sei tu fammelo capire questo calore cresceva ed era una buona sensazione ma la cosa che mi ha letteralmente lasciato di stucco è che mi sono reso conto senza rendermene conto che delle lacrime stavano scendendo ai miei occhi e io non riuscivo a credere a questa cosa dicevo signore come è possibile ma sei davvero tu che mi stai chiamando allora e più dicevo questo più quello stato d'animo di benedizione saliva più le lacrime scendevano e più la gioia riempiva la mia vita quel pomeriggio io ho bagnato due fazzoletti e dopo quell'esperienza io ho preso questi fazzoletti li ho strizzati per quanti lacrime c'erano dentro quel giorno ho potuto dire tu signore veramente esisti tu mi hai chiamato e tu mi hai fatto grazia di venire a vivere nella mia vita tu mi hai rigenerato trasformato quel giorno se n'è andato il vuoto ed è arrivata la gioia è la cosa ancora più bella e con questo concludo per non portare via troppo tempo perché si vorrebbero dire tante tante cose una cosa la voglio dire ai giovani che ieri sera hanno testimoniato insieme a loro a tutti i giovani di oggi a distanza di tanto tempo quella gioia ancora presente è una cosa la voglio dire anche a chi non ha ancora fatto questa esperienza non è un'esperienza emotiva non è un lasciarsi andare come alcuni pensano dettato dalle circostanze dal momento dalla situazione non è fino a se stessa perché ogni volta che andiamo alla presenza di dio noi quella gioia quella benedizione quello stato di grazia quello stato di riconoscenza lo proviamo e lo sentiamo e quando sentiamo la benedizione e la presenza di dio non possiamo far altro che dire signore grazie perché sei vivente nella mia vita sono passati 28 anni da quel giorno e devo dire che dio è stato fedele in tante tante situazioni mi ha benedetto in tanti modi ci sono state le difficoltà ovviamente ci sono state le prove ci sono stati problemi ci sono state tante cose che questo mondo ci mette dinanzi ma non è mai venuta a mancare la sua benedizione e questa esperienza che noi abbiamo fatto e apportate a disposizione di chiunque invoca il nome di gesù con questo voglio dire grazie signore grazie signore perché ancora oggi tu sei pronto a salvare dio sia lodato e benedetti in eterno grazie a tutti